Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come La cantante di Amici, Enola, ha dato un bellissimo annuncio che ha fatto gioire anche il suo fidanzato Leo Gasman Ecco di cosa si tratta appunto molti protagonisti che si sono avvicendati nel corso di tutte queste 21 edizioni di Amici di Maria De Filippi sono rimasti nel cuore dei telespettatori del famoso talent di Canale 5 che presto sarà nuovamente in onda con la sua 22esima edizione Una di queste è Enola Bareggi, conosciuta semplicemente con il nome d'arte Enola, che ha partecipato alla ventesima edizione del programma venendo eliminata creando o non poche polemiche da parte del pubblico Amici, l'annuncio inaspettato da parte di Enola.La ragazza è pronta oggi a dare un bellissimo annuncio ai suoi fan che l'hanno sempre sostenuta e hanno trovato ingiusta la sua eliminazione dal talent in quanto considerata la più originale e talentuosa di quell'edizione In molti la volevano in finale o addirittura vincitrice del talent, ma la ragazza ha visto sfumare il suo sogno e quello di tanti telespettatori a metà percorso del serale per poi proseguire la sua carriera dopo il programma Una carriera che, non prevedeva l'arrivo di qualcosa di inaspettato che ha reso felice tutti i suoi ammiratori e che ha fatto piacere anche a Leo Gasman, figlio dell'attore Alessandro Gasman, ex concorrente di X-Factor e vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella sezione Nuove proposte Il cantante, è stato legato ad Enola per molto tempo ma il loro rapporto è terminato quando all'interno del talent la ragazza si è scambiata un bacio con il ballerino Alessandro Cavallo Da quel momento, le cose tra i due si sono complicate ed entrambi sembrano aver deciso di mettere fine al loro rapporto anche se non c'è mai stata una vera e propria conferma riguardo la loro rottura Ma la notizia che arriva in questi giorni, ha anche reso felice Leo Gasman che ha sempre sostenuto la sua fidanzata nel corso del suo percorso all'interno della trasmissione di Maria De Filippi La grande occasione della cantante.Come annunciato dalla stessa e poi riportato su il vicolo delle news, Enola si è ritrovata a vivere un'emozione molto forte che potrebbe dare una piega diversa alla sua carriera infatti la cantante aprirà i concerti di una band molto famosa Stiamo parlando dei pinquini tattici nucleari, che in questi giorni stanno girando l'Italia con un tour ed è proprio durante questi live che vengono introdotti dalla voce di Enola che sta ricevendo pareri positivi da parte degli spettatori durante le sue esibizioni Per la cantante si tratta di un'occasione unica e in molti sognano una collaborazione tra lei e i pinquini tattici nucleari anche in vista del prossimo festival di Sanremo, affermando che la voce della cantante con quella di Riccardo Zanotti, Frankman della band si sposerebbero benissimo assieme Non resta che attendere per capire se il sogno dei fan di Enola si realizzi o se per il momento si tratta solamente di una collaborazione riguardante il tour dei pinguini Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video